Di quest'anno, dell'edizione 2014, vede la collaborazione tra Università e Conservatorio di Musica di Colombo di Tito Schipa di Lecce. Presenziamo i ragazzi del Conservatorio che sono venuti a suonare con noi della Summer School per la chiedita di Vigna Castrisi. Nome? Luigi Caputo. Grazie Luigi. Come? Grazie Giuseppe. Ripeti? Chiero, io con l'embre. Grazie. Grazie. E poi il maestro che vi ha guidati, Luca De Giorgi. Luca vieni qua. Maestro, ci hai guidato i ragazzi? Cosa? Ci hai guidato i ragazzi? I nomi dei ragazzi? No, li abbiamo già presentati. Presentati tu? Luca De Giorgi. Classi di strumentazione per il Conservatorio di Musica di Lecce, il dottore Giustotanto, il pedagogia dello studio, un po' presso l'Università del Salerno. Benissimo. Bella collaborazione tra conservatori e i ragazzi che hanno presentato il loro operato musicale. Sì. Grazie a tutti i professionisti. Non sono amatori, sono tutti i ragazzi che studiano, che hanno una gamma, che siano giovani, hanno una gavetta di banda, hanno indifferente. La prova è stata l'improvvisazione, quindi seduta stante di alcune marce, nel quarto finale, che vi posso garantire, meritava almeno 3-4 ore di prova. Siete stati bravissimi, grazie. A domani. Grazie.